Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito i suoi amici qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nei miei commentari per stare sempre ragionati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi farò il video top 30 dei manga di Osamu Tezuka, quindi autore Osamu Tezuka, solo suoi. Questa è la parte 1 che vanno per la posizione 30 e la posizione 21. Quindi direi di iniziare dalla posizione numero 30 con Ambassador Magma, volume unico, edito da Gipo, prezzo 15 euro. Manga dal 1965, quindi stava abbastanza indietro. Prima ancora di Astro Boy, Osamu Tezuka crea questo mecha, questo robot, questo robottone, che getterà comunque poi le basi dei successivi mecha, in qualche modo. Cioè è proprio addirittura prima ancora di Gigropo, l'acciaio, in Bionzinga Zeta, è ancora prima di queste serie, anche se non è affatto ovviamente Osamu Tezuka. Precede anche lo stesso Astro Boy, e quindi qua più o meno entra in questo filone Osamu Tezuka, creando però appunto questi robottoni che dovrà difendere il mondo. Che è un ragazzo robotico che si trasforma in un robot umanoide, come potete vedere. Quindi è un manga comunque di fantascienza, stesso tempo è anche un action shonen, cioè uno shonen quindi per ragazzi d'azione, quindi combattimenti su combattimenti per salvare la terra. Diciamo che è un manga un po' per conoscere su tutti i ragazzini, 12, 13, 14 anni, che magari non hanno avuto modo di conoscere Osamu Tezuka. Questo come vedete nei disegni è comunque uno stile degli esordi di Osamu Tezuka, poi migliora nei disegni, proprio questo era tra gli inizi, non è quello più vecchio, ce ne sono molti ancora più vecchi, però è carino. Ecco, comunque in posizione 30, ricordo che ho letto, non so quante opere sono uscite di Tezuka, di cui ho letto 70 forse opere di Tezuka che ho letto. Comunque sono uscite parecchie opere di Tezuka, e quindi anche se è 30 è comunque abbastanza in alto. Continuiamo con la posizione numero 29, sto parlando di Birdman, l'ascesa degli uomini uccello, Eito dalla Icari, questo prezzo 18 euro. E' un manga anche questo, Shonen, dove siamo in un mondo, nel nostro mondo, quasi come se fosse un universo narrativo, e qua, piuttosto che discendere dai primati, c'è una razza che discende dagli uccelli, da varie specie di uccelli, che conquisteranno il pianeta Terra, distruggeranno comunque il regno degli uomini, anzi gli uomini saranno i loro schiavi, le loro bestie. Questi uccelli comunque avranno un'intelligenza molto spiccata, però non avranno la capacità di volare, e quindi vedremo creare società di uccelli, che percorreranno e imboccheranno la via dell'autodistruzione, esattamente come gli esseri umani, tra guerre, epidemie, carestie, conflitti interni, e quindi come se l'intelligenza porta comunque a uno stesso epilogo, cioè a correare armi, diventare sempre più potenti, e cercare di sopraffare l'altra specie, e quindi sono comunque errori che non solo l'uomo fa, ma ci fa vedere, usiamo Tezu, che secondo il suo concetto, che quando si ha troppo potere, rischia sempre di abusarne, e quindi non bisogna abusarne. Posizione numero 28 per Garon, Eito da Gipo, prezzo 15 euro, questo è il volume 1, questo di Turamanga di fine anni 50, quindi ancora più vecchio, qua abbiamo due meteoriti che cadono sulla terra, uno è proprio il corpo di questa entità, di questo guerriero spedito da non si sa chi sulla terra, e nell'altro meteorite c'è Keiji, questo bambino che in realtà è il cuore di Garon, che lui, questo guerriero, senza sentimenti, senza ragione, solo con Keiji nel suo cuore, perché questo è un sportello che si apre il petto, riuscirà a avere una parvenza di ragione e avere uno scopo, portare le sue azioni con una finalità, però ovviamente il genere umano cercherà sempre di approfittare di questo essere, di questo guerriero, per distruggere o conquistare qualcosa, e il genere umano, poi appunto qua, si porterà all'autodistruzione, o meno, rischierà di portarsi all'autodistruzione, Usamu, Gonagai ha amato molto questo manga, e infatti probabilmente l'idea dei Mecha e successive opere, probabilmente siccome più che con Ambassador Magma, nasce con Garon, che comunque, è in qualche modo, non è un Mecha, però ha lo stile di battaglia, la tecnologia, l'idea generale di creare questi robot giganti, uno che è un'arma di istruzione di massa, in pratica. Poi, passiamo, posizione numero 27, con Ludwig B, manga volume unico, edito da G-Pop, quando mi riquadri, Usamu Tezuka, ripercorre la vita di Ludwig Van Beethoven, quindi, è un manga storico, rivisitato, appunto la storia di questo grande artista, in tutto per tutto, qua vedete, lo stile di disegno è comunque molto più avanti, dovrebbe essere degli anni 80 questo manga, quindi, uno degli ultimi manga che ha scritto purtroppo Usamu Tezuka, ci ha lasciato troppo presto nell'89, e comunque, se amate un po' la storia, se amate Ludwig, o comunque amate la musica, l'ho trovata comunque molto molto interessante, parecchio interessante. Poi, passiamo a posizione numero 26, con The Crater, volume unico, prezzo 19, edito da G-Pop, questo sarà forse l'unico, credo, raccolta di opere, perché è una raccolta di opere, storie brevi del Dio del manga, quindi se magari, volete spaziare un po' diversi generi, qua può fare al caso vostro, qua sono incentrate tutte storie, comunque un po' su rimorsi di coscienza, sugli esseri umani, che provano dei rimorsi, durante la loro vita, per qualcosa che hanno combinato, qua in particolare, che prende il nome dei crater, è ambientata sui crateri dei lunari, come dice il nome, e comunque, sono storie parecchio forti, tutte le tue conclusive, di tutte le opere, io ci ho già fatto un video dedicato, quindi, non sto qua a snocciolarvi troppo, perché se no, uscirebbe video, lunghi, ore e ore, di video che comunque, ci ho già fatto, quindi, ogni tanto magari, compariranno dei link, se volete andare a vedere alcune, alcune opere, poi, li ho comunque fatti tutti, c'è la playlist dedicata, quindi, se siete curiosi, poi, potete andare a spulciare, dopo questo video, e se vi fa piacere, se volete aiutarmi, non solo condividete, mettete like, e ovviamente iscrivetevi, ma mettete anche, commentate, attivate la campanina, per non perdervi, comunque, è una buona raccolta di opere, edificemente, una classifica, vediamo, in una raccolta di opere, non essendo comunque, un volume unico, cioè nel senso, di una storia completa, e unica, sono varie, storielle, posizione numero 25, per number 7, edito dalla Goen, prezzo 12,50 euro, questo è il volume 1, qua, è uno shonen, molto, molto bello, è un po', mi ha ricordato un po', Cyborg 009, di Shotaro Ishinomori, cioè, queste squadre, una squadra, che abita sulla luna, degli esseri umani, che abitano in orbita, sulla luna, lontano dal pianeta Terra, perché, è stato, conquistato dagli alieni, perché, è stata una guerra, gli umani, ci sono, praticamente, distrutti a vicenda, e, degli alieni, hanno preso possesso, al pianeta Terra, e, gli ultimi superstiti, creano una squadra, di 7 persone, per cercare, di, riconquistare, il pianeta Terra, e il nostro protagonista, questo ragazzino, appunto, dovrà cercare, di, in qualche modo, di, oltre a essere entrato, in questo gruppo, di, riconquistare il pianeta Terra, quindi, vedremo, razza aliene, combattimenti, è un classico, shone, molto, molto carino, mi è piaciuto, parecchio, e, devo dire, che è parecchio sottovalutato, secondo me, perché, copertine, qual è di una volta, poi, ha la particolarità, di avere, questa serie, la sovracoperta, riversibile, e questa, è la sovracoperta, dell'opera originale, della serie giapponese, quindi, però, io non la giro, per non rischiare di rovinarla, e, la tengo così, comunque, è una buona idea, di quella della Goen, che ha fatto la Goen, apprezzata, direi, questa copertina, reversibile, poi, continuiamo, posizione, numero, 24, per, il mondo, in una bottiglia, volume unico, prezzo 15 euro, edito da J-pop, qui, è un manga, degli anni 60, metà anni 60, c'è questa ragazza, questa donna, Zephyrus, una donna bellissima, che è stata, in qualche modo, tradita, dal genere umano, da un uomo in particolare, dai soldi, anche, e, cominciano a odiare, uno e l'altro, uomini, soldi, e la società, che, giudica, tutto in base, ai soldi, e, i soldi, fanno girare il mondo, sono, chiunque, corruttibile, quei soldi, e, quindi, insidia, negli elementi, delle sue figlie, questa idea, quindi, attraverso le sue figlie, vuole cercare vendetta, attraverso, gli uomini e società, in parole povere, però, molto, molto bello, molto avvincente, molto, davvero, mi è piaciuto un sacco, e siamo solo a posizione, numero 24, quindi, diventerà sempre più belle, almeno, comunque, ricordo, è la classifica personale, quindi, sono i miei gusti, quindi, se non so, quante opere di tezzo, che avete letto, però, potete scrivervi qui sotto, le vostre, ricordo che poi, le altre, la parte 2, la parte 3, usciranno ogni domenica, quindi, la prossima domenica, vedete, la parte 2, quella dopo, la parte 3, poi, posizione numero 23, per Midnight, edito dalla Icari, questo 2,1, prezzo 9,90 euro, formato Tankobon, manga degli anni 80, inizio anni 80, vedremo questo, questo taxista, che fa le corse, esclusivamente, quasi solo di notte, e, ascolterà le storie, del, di quelli, che comunque, prenderanno il taxi, a quell'ora, e in qualche modo, li aiuterà, anche, cercherà di risolvere, un po', le magagne, i problemi, di queste persone, che comunque, vivono nel cuore, della notte, girano di notte, e, anche lo stesso taxista, avrà, un segreto, del suo passato, che, a un certo punto, incomincerà a venire fuori, comunque, l'ho, molto apprezzato, questo dovrebbe essere un Seine, non mi ricordo bene, dovrebbe essere un Seine, ha comunque, storie, parecchio mature, e, e, è comunque, un buon manga, posizione numero 22, per Ayako, questo è volume 1, Eito da Gipo, prezzo 14 euro, questo è un Seine, molto forte, fine seconda guerra mondiale, ancora, in Giappone, aveva una classe patriarcale, molto, molto forte, era molto patriarcale, in Giappone, non che adesso sia di meno, ma è molto, molto più blando, però, ancora, a quell'epoca, era molto, molto forte, cioè, il padrone, il capo della famiglia, decideva tutto, chi doveva sposarsi, approfittava anche, magari, della sua nuora, palesemente, e, è un contesto, di cultura giapponese, di questo patriarcato, alto locato, o proprietario terriero, più, più, sarebbe più giusto, corretto dire, questo proprietario terriero, che, pensa, e, dalla sua tradizione, di poter fare, quello che si vuole, la sua famiglia, deve solo stare zitta, e, fare esattamente, tutto quello che vuole, perché, è lui il capo, lui ha i soldi, e decide tutto, tutto lui, anche nella vita, dei suoi figli, è molto forte, è molto forte, questo manga, soprattutto, trasportato, al, in modo contemporaneo, cioè, al periodo, in cui stiamo vivendo, che alcune cose, purtroppo, ci sono ancora, e, però, è molto, molto forte, lo consiglio, davvero, tantissimo, ultimo, di questa, di questo video, posizione 21, per, Barbara, volume unico, 8, jpop, prezzo 15 euro, lo scrittore, Miruka, incontra, per caso, una ragazza, di nome Barbara, una ragazza, abbastanza, dissoluta, che, ci prova, spuduttamente, o, perlomeno, non gli frega niente, di essere usata, quasi, come un oggetto, del suo corpo, però, chi è realtà Barbara, una strega, perché, porta davvero, fortuna, a lui, che è un artista, ma, anche nel suo passato, a tutti gli artisti, quando avevano lei, quando c'era lei vicino, hanno sempre avuto successo, ma, quando lei ha deciso di abbandonarli, sono caduti in miseria, chi è realtà Barbara, lo scoprirete solo, leggendo questa opera, o vedendo il mio video dedicato, io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo ai prossimi video, con un po'